Sono passati 50 anni da quando avvenne una vera e propria rivoluzione nella musica pop. Nel 1967 i Beatles erano già famosi, erano un gruppo già adorato in tutto il mondo, i loro concerti erano pieni, si era nel pieno della cosiddetta Beatlemania, ma erano autori di stupende canzoni che rimanevano nel format canzone. Invece nel 1967 rompe sul mercato forse il primo album concept della storia del rock, Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, un disco in cui i Beatles, che decidono di non suonare più in pubblica, delegano questa finta banda capitanata da questo Sgt. Pepper's a cantare al loro posto. È un disco che ha rivoluzionato la musica e che ha scioccato i primi ascoltatori perché era pieno di sperimentazioni. Dopo quel disco sarebbe cambiata la storia della musica, non poteva più essere solo il format classico della canzone, ma pur con i mezzi tecnologici dell'epoca che sono non paragonabili a quelli di oggi, i Beatles fecero davvero qualcosa che nessuno aveva mai tentato. Ogni canzone, ogni brano ha una qualche originalità non solo dal punto di vista musicale, ma proprio dal punto di vista della creatività, della sperimentazione. E questo diede il via poi a tutta una serie di filoni musicali, uno per tutti, ecco, pensiamo di Pink Floyd, Roger Waters fu praticamente rapito dal suono di questi dischi e iniziò tutto il percorso che rese poi famoso il suo gruppo. Ecco, e questa fu una vera e propria rivoluzione in tutti i sensi, persino anche dal punto di vista della grafica, la copertina di Sgt. Peppers è un capolavoro a cui collaborano tutti e quattro i componenti del gruppo con questa folla di personaggi famosi, di ritratti di personaggi famosi, mischiati a personaggi pop e a loro stessi vestiti con queste divise colorate. Ecco, è davvero un momento di rottura. Fino a Sgt. Peppers, il rock aveva avuto una sua storia che era la diretta rede della canzone. Dopo Sgt. Peppers, nulla è più stato come prima e mai forse nulla potrebbe essere come prima.